E' dal giorno 2 novembre che questa zona, via Licata, è priva di telefoni e di ADSL. Pare che la ditta che ha proceduto a fare dei lavori per il passaggio alla fibra ottica abbia tranciato, almeno così dice Telecom, ha tranciato i cavi. Nonostante i nostri ripetuti solleciti verbali e telefonici, nonostante le nostre diffide, ancora oggi e a distanza di 20 giorni, le attività produttive di queste zone siamo prive di uno strumento che ormai è diventato indispensabile per poter stare aperti. Io mi chiedo, in un paese civile, in un paese normale, tutto questo è ancora possibile? E ancora di più, transitando per via Licata ci sono le buche ancora aperte dove, non lo so, devono mettere dei tombini, non so cosa devono fare, creando un serio pericolo agli automobilisti. Io sono indignato come cittadino, sono indignato come operatore economico di queste città. Invito e ne faccio, approfitto dell'occasione della vostra gentile emittente per lanciare un messaggio al sindaco. Sindaco, queste cose in un paese normale, in un paese civile, non dovrebbero essere possibili.